Sono Luisa Macciocca, faccio parte del corpo docente di Gemma Business School ma ho anche un altro ruolo, quello di essere direttrice scientifica dei master dell'area risorse umane. Collaboro con Gemma da tanti anni, è un rapporto consolidato, abbiamo superato le nozze di smeraldo, ci stiamo avviando quasi alle nozze d'oro, quindi è un rapporto consolidato non solo dal tempo ma anche dalla relazione che abbiamo come persone e come professionisti. Il master in post laurea in risorse umane è arrivato alla cinquantesima edizione, 50 edizioni posso dire io c'ero, posso dire di aver conosciuto tutti gli allievi che oggi sono, molti di loro sono responsabili delle risorse umane di importanti aziende o comunque ricoprono posizioni in interessanti in questo ruolo e oggi collaborano con noi, sono nostri partner nella realizzazione di progetti, nell'offerta di stage e quindi abbiamo un network di allievi, di ex allievi molto interessante. La nostra filosofia di fondo, la nostra filosofia didattica è qualcosa che somiglia all'imparare facendo, che abbiamo trasferito in fare per imparare, sostanzialmente la stessa cosa ma noi partiamo veramente dal fare, quindi fin dai primi giorni mettiamo gli allievi di fronte a casi reali, a esercizi, a volte anche difficili, ma riusciamo in questa maniera a noi a capire il momento culturale che loro stanno vivendo, le conoscenze che hanno e loro a capire che essere allievi di GEMA significa qualcosa diverso dalle esperienze scolastiche che hanno fatto finora. I docenti, i miei colleghi sono tutti professionisti come me che operano nel settore e che quindi trasferiscono le loro esperienze. Un master che arriva alla cinquantesima edizione significa che nel tempo ha cambiato spessissimo i contenuti. Diciamo che noi fino a qualche anno fa, alla partenza di ogni edizione, innovavamo sempre qualcosa. Oggi continuiamo a farlo, anche durante il master. Il master dura sei mesi e durante questi sei mesi le novità che avvengono sul mercato o le aspettative dei giovani che si accostano a questi lavori ci spingono ad avere, ad offrire un prodotto innovativo e soprattutto in linea con le aspettative aziendali e delle persone. Per afforzare il concetto del fare per imparare vorrei raccontare un aneddoto. Qualche anno fa, all'inizio, proprio nei primissimi giorni del master, noi siamo abituati a mettere i ragazzi, gli allievi di fronte a situazioni reali e quindi stavo assegnando l'ennesimo caso reale aziendale. Uno degli allievi si alza e mi dice, io non voglio fare questa esercitazione. Come mai? Perché non mi sento di avere tutte le conoscenze per poter fare questo esercizio e a me non piace sbagliare. e quindi ho risposto dicendo, va bene, allora gli altri possono andare, tu se vuoi ti faccio un'introduzione teorica e poi raggiungi gli altri. Naturalmente lui non ha accettato, era un po' scuro nel volto e è andato a lavorare con gli altri. Poi sono tornati, hanno fatto la loro presentazione, non abbiamo più ripreso l'argomento. Dopo qualche settimana io sono tornati in aula e lo stesso ragazzo si è alzato sempre davanti a tutti e ha detto grazie, grazie per avermi spinto ad andare a fare quel giorno quell'esercitazione. Ho capito che è molto importante sbagliare e imparare dall'errore. Allora io questo ragazzo, poi è stato uno dei migliori allievi, oggi è un personaggio importante nel mondo del chart, l'ho gradito molto, l'ho apprezzato molto perché ha avuto due volte coraggio. Il primo coraggio di esprimere il suo pensiero, di dire non sono d'accordo. Il secondo coraggio di dire ho capito l'errore che ho fatto e questi sono gli insegnamenti di vita.